Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. 3, 2, 1, via! Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre nasse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Esegui un movimento lento sia in fase di salite che di discesa. Così aumenterai l'efficacia dell'esercizio. Prossimo esercizio. Stop! Prossimo esercizio. Squat a parete ad una gamba. Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Sono a presti. Prossimo esercizio. Qui si vuole è riscizio. Versimo esercizio. gaat abbastenta dell'esterno. Ampassi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi a terra. Non spostare il peso del corpo sulla punta. Per massimizzare l'efficacia dell'esercizio, la spinta deve essere concentrata sul tallone. 5, 4, 3, 2, 1, cambialato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare la gamba piegata verso l'interno o l'esterno. Il ginocchio deve essere in asse con il piede. Il ginocchio della gamba piegata non deve superare la punta del piede. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, affondi frontali. Non ruotare la punta del piede. Non ruotare oldeston o l'esterno. Non ruotare solle 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o narcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Stop! Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore incrociato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Jump squat. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare laterale. E quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia la punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante i salti. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non ruotare le gambe verso l'esterno o l'interno. Le ginocchia devono essere in asse con le punte dei piedi. Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non superare la punta dei piedi con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Tieni l'addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Esegui un movimento lento sia in fase di salita che di discesa. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Squat ad una gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba poggiata. Ricorda, per mantenere l'equilibrio è importante che i glutei ed addominali siano sempre ben contratti. Se non riesci, aiutati poggiandoti ad una parete. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non spostare lateralmente il ginocchio durante la discesa. Fai attenzione a tenerlo sempre in asse con il piede. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Stop! Prossimo esercizio. Squat a parete. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non spostare il peso del corpo sulle punte. Per massimizzare l'efficacia dell'esercizio, la spinta deve essere concentrata sui talloni. Per aiutarti, mantieni testa e schiena perfettamente aderenti al muro durante tutto l'esercizio. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Le ginocchia non devono superare le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondo laterale più affondo frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tenere gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Per un maggiore equilibrio puoi aiutarti stendendo le braccia in avanti. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Stretching femorali e glutei. Via! Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via! 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 Non tirare eccessivamente la gamba. Il ginocchio punta verso il pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching glutei. Via! Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena. Contrai l'addome per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Le braccia in avanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.